Terapia ABBA. Perché l'ASL di Benevento ha deciso di adottarla per aiutare i bambini affetti d'autismo mentre altre ASL della Campania non lo fanno? Se lo chiedono i responsabili dell'Associazione Autismo Fuori dal Silenzio e di Pagani che da anni si interessano delle problematiche legate ai ragazzini che soffrono di questa patologia sempre in aumento e che non viene attenzionata, secondo loro, come si dovrebbe e potrebbe. Ecco perché sono pronti anche ad azioni legali affinché i loro sacrifici per i propri figli e per tutti i bambini autistici non vengano vanificati. La terapia ABBA, che sta per Applied Behavioral Analysis, è un programma riabilitativo che usa il metodo LOVAS nel contesto di un intervento intensivo e che viene eseguito da terapisti specializzati, operatori professionali con abilitazioni ABBA che si prendono cura del paziente in modo minuzioso perché, e lo dicono gli esperti, l'autismo si può curare. Questa delibera che è stata fatta dall'azienda sanitaria di Benevento inquadra tutto quello che noi vogliamo per i nostri figli con un supervisore, degli operatori ABBA qualificati e un progetto individuato sul bambino. E quindi a 360 gradi ci sta l'intervento proposto sia all'interno del circuito familiare che extra-circuito familiare. Noi oggi siamo costretti anche ad accollarci quelle che sono le difficoltà scolastici dei nostri figli. Immaginate che finanziamo anche gli operatori che entrano all'interno dei circuiti scolastici e operano insieme con gli insegnanti di sostegno e con i nostri bambini quindi per dare la funzionalità anche adeguata al sistema scolastico. Lo stiamo facendo e lo continuiamo a fare sperando solo che nel momento in cui iniziamo questa battaglia legale perché poi un'altra cosa interessante è che noi dopo tante difficoltà siamo riusciti ad avere circa una quindicina di prescrizioni dall'ASL in cui ci davano 18 ore di attività settimanale di analisi del comportamento abbiamo avuto la difficoltà di reperire dei centri sul territorio che avessero le personalità oppure le professionalità giuste per i nostri figli. Per cui teniamo 15 prescrizioni ma non abbiamo le strutture che accettano l'attività. Quindi anche noi in funzione di queste prescrizioni, in funzione della delibera che rispecchia perfettamente il nostro intervento iniziamo con i ricorsi legali e proprio per il riconoscimento dei diritti dei nostri figli.